manda tanti baciotti zia tanti baciotti alla sua principessa intelligente e brava baciotti dimmi amore mia dimmi tutto dimmi il fratello di Greta li ha cancellato Minecraft il fratello di Greta li ha cancellato Minecraft? no no si è scancellato da solo e poi non lo so ma poi mi sa che anche io si scancellerà no tu no vedi c'è il fratello no io mi sa ieri qualche volta no vorrei vedere una cosa il costume di Greta li ha volato fuori dalla finestra il costume di Greta è volato fuori dalla finestra si di quando eravamo tornati da pirata ma come ha fatto il vento li ha portato via poverina ma sai che Greta viene a scuola con sé? non è la stessa classe però comunque li potete vedere scuola bello 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 mi scusi bello 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 posso aprire un'altra mappa? signori grazie bello 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 che c'è quello non me lo dava sicchio è un'altra cosa è un gлично di un altro genere ma anche tanto bello sei un appassionato di Ocranita ecco in grittangici secondo me andavo ma l'ho vista spesso in televisione vedo un sacco di più corti in televisione dove non sono venendo d'arte un marino in questa casa c'è un bel disco che cavaleo che cavaleo che cavaleo Miammi. da fianco di un vecchietto. Figurati, sono stati in posti migliori, con giunto e peggiori. È vero, ci hai messo a concerti l'uomo a fuori. Solo uno. Ma che ancora siamo d'accordo, cioè noi ci vediamo venerdì. Oh, se non ti dispiace, dovrei vi dare più perché mi hai vietato dopo il tramonto. Oh, per me sarà un piacere. Grazie. Spero quando sarò grandi e venderò le magliette. Se voi volete partecipare con me e la Noemi, iscrivetevi al mio canale e la Noemi con me. Perché iscrivetevi al mio canale con me e la Noemi perché noi facciamo dei grandi youtuber. Insomma, sotto i commenti ci scrivete se siamo stati bravi a fare questo video. Però continua, continua il video, ma non vi preoccupate. Allora, Amm, 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 Amm. Allora, Amm, 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 Amm Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.